Non ce l'ha fatta il giovane di Capannori che lavorava come cameriere al noto locale La Capanina di Franceschi, a Forte dei Marmi. È morto a seguito dell'aunerisma che lo ha colpito nella notte fra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio. Si chiamava Raul Biagiotti, aveva solo 20 anni. Propriamente stava lavorando nel locale, all'improvviso si è accasciato, erano le 3.30 della notte, un arresto cardiaco. Le sue condizioni sono progressivamente peggiorate. Inizialmente era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia per i primi accertamenti, ma una volta verificata la natura del malore, il giovane è stato trasferito nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Levorno. Nonostante i sanitari del 118 siano riusciti inizialmente ad animarlo, purtroppo non c'è stato niente da fare. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Forte dei Marmi. La notizia della tragica scomparsa del stato grande cordoglio della comunità capannorese, che si è stretta intorno alla famiglia di Raul, lascia i genitori, un fratello e una sorella. Toccanti le parole con cui la madre lo ha ricordato attraverso il suo profilo social, che commentano una fotografia del giovane. Odiavi questa foto, mentre io la trovo meravigliosa, nonostante il dolore della perdita, ti assicuro che ripercorrerei tutto il viaggio insieme a te. È stato un vero onore e privilegio conoscerti, la tua mamma.